cari amici buongiorno benvenuti in questo nuovo video di ale lo statale oggi è lunedì 27 marzo 2023 allora questo sabato è stata reintrodotta l'ora legale quindi siamo andati un'ora in avanti quindi dobbiamo ora andare a cambiare l'ora nel tachigrafo e ora ti faccio vedere come si fa allora premiamo l'ok andiamo nel menu con le freccette andiamo su entrata veicolo eccolo qui out no traghetto no ora locale ecco qua e da qui cambiamo con le freccine lui va avanti di mezz'ora e mezz'ora quindi ecco qui 8 e 26 8 e 56 l'ora otc rimane la stessa perché ricordatevi il tachigrafo per i dati diciamo ufficiali registra in ora otc cioè nell'ora di londra praticamente e noi siamo in italia quindi normalmente siamo un'ora avanti con l'ora sola con l'ora legale andiamo a due ore avanti premiamo ok dato registrato premiamo la freccina per tornare indietro è dal menu sì ecco qua 8 e 56 a questo punto siamo pronti ad iniziare la nostra giornata quindi ora vado a inserire la scheda si va in magazzino e vediamo un po cosa c'è da fare oggi